Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra la barriera di Firenze-Ovest e Peretola in direzione Firenze. Attenzione al veicolo fermo o in avaria in entrata a Pistoia in entrambe le direzioni. Spostandoci in Fippi lì, un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Per quanto riguarda le statali sulla 62 della Cisa, rallentamenti in entrambe le direzioni per un senso unico alternato circa 2 km prima di Aulla. Sulla statale 64 Porrettana, lavori tra Villaggio Il Signorino e il Ponte della Venturina in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Grazie, buon viaggio!